Bene, grazie di essere venuti, è stato un incontro molto interessante. Io chiederò già oggi, già ora, che venga messo agli atti una formale richiesta, perché la mozione venga ritirata dal Consiglio regionale e ci sia un passaggio in Commissione. Perché soprattutto dall'incontro di oggi emerge l'esigenza di un confronto ancora più approfondito, quindi lo farò anche in Consiglio, vediamo se verrà accettata questa cosa, mi sembra un bel segnale. Io vi vorrei fare un po' di domande. In riferimento alla mozione di Marras, visto che è uno degli argomenti trattati, posto che noi come Movimento 5 Stelle siamo d'accordo sulle considerazioni, le osservazioni sul quadro generale dalla quale parte questo atto di indirizzo politico. Tra l'altro mi cita anche, per esempio dice che la regione toscana con l'approvazione del PAER si è posta tra gli obiettivi quello di sostenere anche attraverso la geotermia lo sviluppo della green economy. Ricordo che anche, non vuol dire solo, anche vuol dire che già oggi la geotermia contribuisce al 30% circa del nostro fabbisogno energetico e elettrico. E quindi un buon pianificatore, un buon governatore dovrebbe fare un audit energetico, capire quanta energia ci serve in Toscana, distribuirla nelle varie fonti energetiche rinnovabili, per una questione anche di diversificazione, e sapere anche quanto il territorio permette la usabilità di una determinata risorsa. Perché facciamo un paragone col sole, il sole è una risorsa illimitata, ma illimitati sono i metri quadrati che noi possiamo mettere a disposizione per il raggiamento. Quindi la prima domanda è se avevo vista bene un ragionamento di questa natura e quindi fare un percorso insieme anche quindi per rivedere il piano regionale. Perché c'è una questione proprio di principio, di visione, di ideale più che di ideologia. Qual è la Toscana del 2020, 2030, 2040 che ci immaginiamo? Noi abbiamo un'idea precisa, sposiamo l'idea di una produzione decentrata di energia, distribuita nel territorio, con reti a bassa e media tensione, quindi impiantistica anche di distribuzione dell'energia meno impattanti, le cosiddette smart grid. Abbiamo un'idea quindi un po' più democratica di produzione di energia, è qualcosa che esiste già, va copiato. Nord-Pas de Calais, una regione a nord della Francia, hanno sposato la strategia di FITZero, la produzione decentrata di energia elettrica e altre varie azioni virtuose sono riuscite a coniugare la torutella dell'ambiente con uno sviluppo cosiddetto sostenibile. E quindi il primo invito, se per voi va bene, è aprire una discussione su questo tema. C'è estrema necessità. Un'altra cosa, nell'atto di Marras, a un certo punto si parla, l'ultimo dice, si prende un impegno per dare piena attuazione al protocollo d'intesa sottoscritto con la rete geotermica. Questo protocollo d'intesa prevede, in cui fanno parte alcuni problemi della media entrapia, cioè praticamente la reazione di dare il via, quindi la ricerca e realizzazione di questi impianti per produzione di energia geotermica elettrica a media entrapia a ciclo binario. Questo è il testo della mozione. Quindi mi chiedo, ma voi avete una posizione onivoca, vi siete confrontati, perché io ho sentito diverse posizioni sulla media entrapia, sto parlando, no? Perché voi quindi siete tutti d'accordo su questo atto? È un atto che voi sottoscrivereste? E poi mi aspetto una risposta, ovviamente, se no non farei una domanda, non è una domanda retorica. Se sì, ne prendo atto, ne prendo atto come movimento noi non voteremo mai questo testo, noi come movimento proporremo un emendamento, noi chiederemo che venga tolta la parola a dare piena attuazione, noi chiederemo che venga fatta una moratoria con un tempo ben determinato, affinché il tutto sia finalizzato ad attuare il piano regionale e anche una risoluzione approvata al Ministero, che è molto importante e anche molto vincolante. Il 15 aprile del 2015 è stata approvata alla Commissione Ambiente e Attività una risoluzione sulla geotermia e il Governo viene così impegnato a procedere alla zonizzazione del territorio italiano, ad emanare linee guida sullo sfruttamento, a prevedere controlli e a tenere conto nei procedimenti di via delle implicazioni dell'attività geotermica a coinvolgere gli enti locali nella fase precedente alla realizzazione degli impianti. Questa è una risoluzione già approvata nel Ministero e noi vogliamo che la Regione ne prenda atto e dia seguito a questa risoluzione. Benissimo nell'atto di Marras il richiamo a una partecipazione dal basso alla pianificazione. Cito che lui stesso sui giornali disse ora voce ai comuni, io direi anche voce ai cittadini oltre che ai comuni, spesso sono una solita cosa, altre volte ci sono firme che superano gli abitanti di un paese. Però i punti, non so se sono chiari le domande che ho fatto e comunque vi ringrazio di essere qua. Grazie. Grazie. Grazie.